In venti giovanissimi questa volta si sarebbero affrontati ai giardini del Porcinai, due fazioni che si sono prese a pugni, spintoni e colpi di seggelo per poi scomparire all'arrivo delle forze dell'ordine. L'ennesima rissa che si è consumata a pochi passi dalla stazione di Arezzo, sempre più spesso teatro di episodi di violenza e degrado, risse, spaccio, accoltellamenti ed addirittura un tentato omicidio. Una situazione insostenibile per residenti e commercianti che per richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale si erano presentati in Piazza della Libertà in occasione del Consiglio Comunale. Ed era stato proprio il primo cittadino Alessandro Ghinelli nell'occasione ad annunciare le azioni che saranno messe in campo in attesa del cantiere per la riqualificazione della zona che prenderà avvio il prossimo giugno. Dunque più illuminazione e polizia privata le risposte immediate che l'amministrazione metterà in campo. Grazie.